Siamo qua perché abbiamo un filone di ricerca ormai piuttosto consolidato nella robotica marina, ci occupiamo di sistemi autonomi, subacquei e di superficie. La maggior parte delle nostre attività è fatta sotto un ombrello più ampio di un'istituzione che si chiama ISME, quindi l'Università del Salento è membro di questo centro interuniversitario e io ho presentato sostanzialmente una overview, quindi una panoramica delle competenze, delle risorse e dei progetti dell'Università del Salento e di ISME. In particolare negli ultimi anni ci siamo orientati a robotica autonoma, quindi esplorazione per motivi ambientali e robotica di servizio, quindi manipolazione subacquea e monitoraggio in generale.